fabiano caruana fabiano caruana ha giocato in squadra con me o è meglio dire io sottoscritto ha giocato in squadra con lui diversi diversi anni abbiamo giocato tre olimpiadi insieme qualche campionato europeo insieme e insomma ci siamo conosciuti un po abbiamo visto fatto soprattutto qualche venuta parti per chi sa che cos'è altrimenti lo spiegherò in qualche altro momento quindi cerchiamo di capire chi è questo fabiano caruana fabiano caruana quindi nasce nel 1992 a miami in florida stati uniti e trascorre gli anni fino al 2005 lì dove ottiene diversi successi a livello giovanile e poi si trasferisce in italia a rappresentare il nostro bello amato paese fino al 2015 giocando appunto tre olimpiadi con me ma quattro totali tra il 2008 e il 2014 anzi due con me due con me e quattro totali è conosciuto sostanzialmente per la sua capacità lavorativa sugli scacchi nel senso che è in grado di lavorare tantissimo tempo è in grado di lavorare ad una intensità molto alta e soprattutto negli anni in cui è stato in italia ha lavorato moltissimo con alcuni dei degli allenatori più famosi e più bravi da quello che si dice nel mondo per esempio un nome che spicca tra gli altri è quello di bruce pandolfini che è stato ex l'ex allenatore di fisher ober james fisher niente proprio di meno boris zlotnik un altro allenatore sovietico molto famoso che si è trasferito negli stati uniti altri due che sono cernin e ciucelov che sono due che hanno allenato praticamente tutti i più forti 2007 più giocatori negli ultimi 20 25 anni infatti non è un caso che il suo stile sia paragonabile a quello di un super computer per cui la sua qualità principale è quella di riuscire a calcolare anche varianti complesse con una accuratezza veramente impeccabile e quindi riuscire a risolvere qualsiasi posizione proprio con la forza bruta del calcolo nel 2014 i suoi risultati esplodono del tutto perché vince il torneo di dortmund è un torneo storicamente molto forte e soprattutto ha la storica performance nel torneo di st louis dove ha iniziato pensate con sette punti su sette partite battendo tutti i più forti al mondo in quel momento ha battuto carson ha battuto topolov battuto rognan battuto bascet e quindi bianco nero è stato una macchina e ha vinto il torneo con otto e mezzo su dieci quindi erano sei giocatori mi pare cinque partite contro uno cinque partite contro l'altro cioè con l'altro colore quindi andata e ritorno e in quell'anno salta il punteggio di 2800 veramente lo salta di tantissimo raggiunge nel live 2851,3 è un punteggio veramente insensato pensate il terzo punteggio live di tutti i tempi dietro kasparov e carson nel 2015 quindi riceve una proposta che non può rifiutare ma dalla federazione statunitense cambia bandiera e rappresenta gli stati uniti per poi nel 2018 giocare quello che è stato uno dei match più combattuti degli ultimi decenni direi contro carson visto che carson gli altri match sostanzialmente li ha dominati e entrambi avevano un elo pazzesco nel senso che fabiano aveva 2832 e carson 2835 quindi se carson avesse perso una sola partita in quel match cosa che effettivamente sarebbe stata possibile in più occasioni fabiano sarebbe salito sul tetto del mondo portandosi al numero uno nel live rating fabiano in generale è considerato anche al giorno d'oggi il secondo giocatore più forte del mondo a cadenza classica tra l'altro in questi giorni proprio si sta svolgendo il torneo di fisher random dove pensate pensate la finale è proprio carson caruana e attualmente tra l'altro è l'unico giocatore al mondo oltre a carson ad avere un punteggio ide a cadenza classica superiore a 2.800 2.804 per l'esattezza per fare un esempio di una partita di fabiano vediamo una delle sue partite diciamo modello su come fabiano è in grado di portare a casa il punto questa partita quindi è stata giocata nel 2013 nel 2014 scusate nel famoso torneo di dortmund di cui ho parlato prima in 2014 l'anno in cui fabiano ha performato un punteggio assolutamente impossibile al torneo di st louis dove ha iniziato con 7 su 7 questa partita è stata giocata contro tale ruslampo nomariov che è stato uno dei anzi è stato il campione del mondo in quell'anno ha vinto il campionato la coppa del mondo che era considerata come un titolo mondiale anche se ufficialmente insomma la gente non è contenta di considerare questi campioni del mondo ali diciamo così e quindi fabiano in questa partita gioca contro ruslampo nomariov fabiano 27 89 con mario 27 23 fabiano inizia con la mossa e 4 che era il suo apertorio principale in quegli anni nero fa e 5 calo f3 calo f6 quindi difesa russa e una delle difese più solide soprattutto al giorno d'oggi tra l'altro lo stesso fabiano ha usato questa apertura contro carsen nel nel suo match del 2018 quindi a prova di proiettere diciamo così e quindi all'epoca la mossa cavallo per e 5 che è stata giocata la scelta da fabiano era considerata un po la mossa principale diciamo così con l'idea un'idea diciamo concreta di giocare su d6 cavallo f3 cavallo per e 4 e cavallo c3 quindi questa linea qui chiaramente adesso per esempio è considerata più interessante la mossa d4 qui oppure le linee ancora più vecchie diciamo così con di 4 comunque la mossa cavallo c3 all'epoca considerata uno trattamento moderno della linea dopo cavallo per c3 di per c3 idea aprire l'alfiere decidere se svilupparlo in e3 un f4 poi fare donna di due ed arroccare lungo quindi il nero continua con alferere 7 alferere 3 e qui il nero continua con cavallo c6 in questa partita al giorno d'oggi ed è anche la linea che ha scelto lo stesso fabiano contro carsen generalmente il nero preferisce arroccare subito corto senza diciamo preoccuparsi del fatto che comunque arroccando subito corto il nero definisce la sua posizione del re quindi il bianco chiaramente dopo donna di due arroccherà lungo che lancerà questi pedoni addosso però dopo la mossa cavallo d7 insomma c'è un po di teoria a quanto pare il nero sta bene senza aver paura delle complicazioni in questa partita il nero ha fatto cavallo c6 quindi la mossa cavallo c6 non definisce ancora la posizione del re e di conseguenza il nero potrebbe poi fare alfiere e6 donna d7 arroccare lungo donna d2 alfiere e6 e rocco lungo il nero continua con donna d7 a questo punto il bianco ha diverse possibilità per ora fare b1 mettendo il re al sicuro generalmente questa comunque è una buona prassi nel senso che adesso il re è difeso da tre pedoni anzi tre e mezzo quasi quattro direi visto che anche il c3 è un ottimo difensore in realtà qui non è obbligatorio fare b1 forse il bianco può iniziare anche da altre mosse per esempio h4 una possibilità per poter lanciare caro g5 anche fare h5 oppure altre altre mosse non lo so si può fare alfiere comunque re b1 mossa sana e qui il nero non decide di giocare subito a rocco lungo perché secondo me tra l'altro qui c'è una mossa molto fastidiosa del bianco che è alfiere b5 e l'idea del fiere b5 è inchiodare questo cavallo ovviamente con la donna dietro su a6 adesso il bianco ha due opzioni può sia fare alfiere a4 mantenendo questa questa inchiodatura preparando cavallo d4 oppure può anche tornare indietro per esempio in d3 creando un'idea che è molto tipica contro questo tipo di pedoni che è la mossa donna e due per eventualmente poter sacrificare in a6 comunque secondo me questo tipo di posizione non piaceva tanto al giocatore apono mario quindi ha deciso di fare alfiere f6 in un certo senso temporeggiando e magari un certo punto magari il nero può cambiare idea e farà a rocco corto e magari che ne so fare b5 b4 dopo torre b8 a seconda della della situazione alfiere f6 qui il bianco ha tante possibilità anche la mossa scelta da fabiano è un po curiosa nel senso che abbiamo fatto h3 qual è l'idea di h3 l'idea di h3 è eventualmente preparare g4 anche in caso di aroco corto il bianco come dire posticipa lo sviluppo dell'alfiere nel senso che l'alfiere può comunque continuare ad essere sviluppato in b5 ma anche in g2 dopo un eventuale g4 questa era anche mi sembra il commento di fabiano a questa mossa h3 dopo h3 il nero fa h6 che anche questa è una mossa d'attesa anche se beh oggettivamente la vedo difficile per il nero a roccare corto perché avendo anche fatto h6 il bianco avrebbe la dire una spinta in più per aprire le linee sul lato di lato dire h6 b3 da parte di fabiano g4 era sicuramente possibile però b3 è un'altra alternativa mi rafforzo un po il lato di donna un po francamente questa mossa mia mia strana però magari in alcune situazioni non so non voglio non voglio permettere calo i5 con una mossa calo c4 non lo so io personalmente avrei giocato g4 ma sono io per dire che b3 non è buona su b3 il nero ha fatto a6 impedendo una volta per tutte questa mossa alfere b5 g4 da parte del bianco era la sua idea e finalmente il nero decide di arroccare lungo e qui dopo arrocco lungo si forma questo tipo di posizione dopo alfere g2 di alfere g2 il bianco prepara a fare calo d4 in pratica l'idea del bianco è quella di ottenere una posizione abbastanza simmetrica per così dire ma con un pizzico di pressione è il senso che comunque l'idea del bianco dopo calo d4 è quella di ingere il pedone f ed è quello che succede in partita il bianco e che il nero fa g5 qui che ok non mi piace tanto come mossa effettivamente si poteva fare forse d5 però l'idea qual è sostanzialmente che dopo g5 il bianco fa calo d4 il nero mangia il bianco mangia e il bianco mangia di pedone non di alfiere perché l'idea è che se il bianco mangia di alfiere che sia che il bianco mangi di pedone sia che il bianco mangia di donna qui sto minacciando donna a7 quindi devo fare re b8 il nero è pronto a fare f5 facendo f5 il nero sostanzialmente farà esplodere tutto il lato di re in pratica in pratica risolve tutti i suoi problemi perché il problema principale del nero qui dopo la mossa c per d che ha giocato fabiano è proprio questa configurazione del pedone f con l'alfiere di f6 davanti perché il nero non riesce a fare f5 per liberare i propri pezzi dopo c per d4 il nero fa d5 anche perché il nero per ora deve capire cosa fare contro questa minaccia d5 assolutamente logica giocando f4 il bianco prima giocando questa spinta di rottura per primo il nero si ritrova a dover difendere una posizione effettivamente anche a livello oggettivo peggiore g per f4 devo farla chiaramente il bianco per ora sta minacciando f5 alfiere per f4 il nero prova in un certo senso a risolvere questo problema del pedone facendo hc chiaramente il bianco spinge in g5 alfiere g7 e qui invece della mossa h4 che anche assolutamente possibile anche se con la mossa h4 lascia la casa g4 per l'alfiere il bianco fa torre d e 1 quindi permette al nero di giocare h4 ma dall'altra parte il bianco guadagna tempo e questa anche una caratteristica diciamo di fabiano vedremo anche più avanti che fabiano non si fa scrupoli a fare delle mosse che magari umanamente sono difficili da fare perché oggettivamente umanamente permettere al nero di fare h4 è una cosa che ma non mi verrebbe tanto naturale mi darebbe veramente fastidio che il nero riesca a fare h4 io personalmente farei h4 qui e mi accollerei diciamo il fatto che il nero possa giocare al g4 però giocando torre d1 h4 adesso il bianco ha tempo per migliorare la sua posizione quindi gioca alfiere e 5 e più avanti come vedremo il bianco comunque avrà più tempo per potenziare i suoi pezzi il nero continua con torre d g8 non giocando alfiere per e 5 perché qui il nero perderebbe dei tempi qui tocca al bianco la torre già in e 5 giocando invece torre d g8 il nero dice vabbè se tu vuoi mangiare in g7 così io mangio e mi hai fatto un favore tanto meglio questa è anche una pratica molto comune negli scatti insomma non rilasciare la tensione ma fare in modo che se l'altro rilascia la tensione noi guagniamo dei tempi il bianco chiaramente non mangia in g7 e continua con migliorare i propri pezzi donna f4 è stata giocata come vedete qua il bianco non vuole fare diciamo qualcosa di super concreto anche perché comunque la posizione del nero rimane piuttosto solida il bianco ha parecchio ancora da migliorare può fare a4 può fare re b2 può magari salire con la torre l'altra torre e il nero risulta abbastanza difficile capire come migliorare i propri pezzi vediamo cosa fa il nero quindi donna di 8 cosa serve donna di 8 probabilmente donna di 8 serve per attaccare g5 tenere attaccato g5 ma soprattutto soprattutto l'idea di donna di 8 è riposizionare i suoi pezzi e anche se donna di 8 sembra una mossa effettivamente piuttosto passiva e sì non deve essere proprio piacevole da giocare però l'idea del nero è sostanzialmente dopo alfiere f1 con mossone da parte del bianco ecco questa è un'altra cosa di fabiano incredibile nel senso che lui non si fa problemi a fare queste mosse che umanamente sono difficili da fare di nuovo indietreggiare con l'assiere solo per riposizionarlo su un'altra diagonale intanto bisogna capire che è una cosa importante da fare e poi bisogna come dire convincersi che questa cosa sia buona è assolutamente normale qui perdere o comunque investire due tempi per far cambiare l'idea far cambiare diagonale a un alfiere che comunque è già sviluppato in g2 a quanto pare questa è veramente una mossa è un'idea piuttosto forte il nero dall'altra parte con la sua ultima mossa donna di 8 cosa vuole fare vuole fare re b8 e vuole togliere questo alfiere mettendolo in c8 in modo che poi quando il bianco vorrà fare g6 il suo alfiere diciamo non sarà più impresa non sarà più sospeso la la colonna e la casa i5 e anche questa è una cosa abbastanza difficile da fare ed è comunque la cosa migliore da fare per il nero quindi entrambi in realtà stanno giocando a livello molto alto ma come vedremo fabiano è abituato a farlo per così tante mosse che l'altro semplicemente non riesce a stare dietro re b8 alfiere d3 alfiere c8 tutto come dire logico a questo punto il bianco semplicemente migliora la posizione con re b2 quindi nonostante il nero abbia trovato il suo piano per riposizionare i pezzi eccetera eccetera comunque il bianco continua a mantenere la tensione re b2 re per i5 torre per i5 torre g7 difendendo f7 preparando magari torre g8 il bianco continua a prendere spazio con a4 il nero decide di non dargli ulteriore spazio perché effettivamente a5 comunque è un'idea che può dare fastidio perché a quel punto il bianco toglierebbe davvero molto molto ossigeno al nero nel senso che dopo re a7 comunque il re non potrebbe andare avanti questi pedoni in caso di a5 dovrebbero essere fissati sul colore dell'alfiere tutti diciamo propositi non proprio positivi per la parte che difende per il nero decide di fare a5 ma è una mossa comunque buona re a2 re a7 donna d2 donna f4 qui abbiamo un siparietto diciamo dove entrambi i giocatori prendono del tempo c'è da dire che qui appunto il bianco non vuole far donna per a5 perché cambierebbe un pedone a che per carità difende il nero però non è g5 un pedone molto forte quindi non risolverebbe i problemi il bianco continua a mantenere la tensione e a7 e qui il bianco decide di cambiare un po la qualcosa della posizione fare cercare di far progresso perché chiaramente qui giocando torre 1 il bianco permette al nero di fare al fiore per h3 ed al bianco è tornare indietro con torre h1 dopo al fiore c8 eliminare il pedone h4 quindi si va a formare questa posizione qui dove dove il bianco ha eliminato il pedone h però anche come materiale insomma stiamo scarseggiando ma a questo punto il nero commette come dire una specie di imprecisione perché fa b6 e questa mossa b6 poi vedremo che sarà l'errore decisivo del nero perché b6 nonostante diciamo secondo la cultura generale i pedoni con alfiere delle case chiare dovrebbero essere messi sul loro opposto in realtà queste case qui queste case chiare eventualmente possono essere insomma bruttate dall'alfiere del bianco quindi probabilmente qui la cosa migliore sarebbe stata fare c6 in realtà per per consolidare insomma lato di donna perché le case scure è vero che sono deboli ma non c'è non c'è pericolo che il bianco insomma le possa sfruttare perché i suoi pezzi sono ancora lontani dalle case scure i b6 donna h6 torre g8 donna c6 come vedete il bianco sta iniziando a fare a fare progressi sulle case sulle case scure l'idea del bianco è semplicemente quella di catturare d5 e qui la mossa 36 molto vicino alla mossa 40 probabilmente in questo momento il nero stava anche scarseggiando come tempo insomma il nero crolla cosa che è abbastanza comune in questo tipo di situazione per cui è difficile qui trovare una buona mossa per il nero tuttora per g5 veramente un tipo di posizione come questo il bianco un pendone in più molto difficile insomma accettare con il nero di dover entrare in questo tipo di posizione ma la mossa che ha giocato il nero è ancora peggio nel senso che ha giocato alfiere e 6 permettendo g6 e a questo punto il bianco non sta tanto minacciando g per f7 però sostanzialmente il il nero non può fare f per g6 il bianco vuole semplicemente migliorare la sua posizione qui il nero ha delle possibilità e gioca torre g7 che è possibile sicuramente rafforza il controllo sulla casa sulla casa f7 ma qui dopo g per f7 alfiere per f7 il bianco ha una combinazione vincente grazie proprio alla alla superiorità dei propri pezzi come vedete il bianco ha i pezzi molto attivi il nero è molto scordinato certo è che se il nero riuscisse a fare un'altra mossa come per esempio magari torre g8 per far torre 8 e cercare di cambiare qualche pezzo ok la sua posizione diventerebbe decente ma in questo momento il bianco ha una una sequenza che vince se volete potete mettere in pausa questo video e cercare di trovarla da soli è molto elegante come combinazione se non l'avete fatto gustiamoci questa combinazione quindi bianco inizia con la mossa torre e 7 la mossa torre 7 semplicemente tra virgolette attacca c7 ora ovviamente la domanda è cosa succede se il nero se lo magna in questo caso c'è la seconda mossa pazzesca che è la mossa alfiere a6 la mossa alfiere a6 minaccia il matto in b7 e la punta diciamo della combinazione è il fatto che dopo re per a6 donna 8 è uno scacco matto molto bello con insomma tutti i pezzi del nero lontani e da solo da sola la donna riesce a dare scacco matto visto che questo peluncino copre la casa di fuga per il re come vedete tutti i problemi sono nati sulle case chiare quindi come dicevo prima invece di b6 c6 prima sarebbe stata una mossa migliore per coprire un po' queste case in ogni caso questa è veramente una tipica partita di fabiano dove continua a mettere pressione il nero si è difeso molto bene fino ad un certo punto ma non è riuscito a mantenere il passo ed è trollato comunque mentre il bianco ha continuato a fare a giocare veramente la partita a un livello altissimo non è un caso infatti che quell'anno il 2014 è l'anno in cui come dicevo prima fabiano ha fatto quel 7 su 7 a san luis risultato record quasi di tutti i tempi c'è un altro un altro risultato di karpov mi sembra nell'area 93 ma questo sarà l'argomento per un altro argomento di discussione per un altro momento grazie per averci seguito e ci vediamo nei prossimi video di questa rubrica e a presto grazie per averci seguito